Musica Piacere, io sono Giulia Claudia Oggi sono 37 giorni dalla prima volta che l'abbiamo fatto qui 37 giorni? Perché tu non le conti? Non te lo ricordi la prima volta che l'abbiamo fatto? 37 giorni qua Te adesso scende con le sue mani fredde in su di me Cosa l'hai detto? Sto tradendo mia moglie, sto mettendo le corna sola, è un'avventura sola, è una storia, sto facendo una relazione Allora, si ricorda quando dicevi che mi stava facendo un'avventura? Sì, ho sbagliato, ho sbagliato, volevo dire relazione, relazione Ho dicendo dottorinca, non mi metti di toccarti in quella gravata ogni 2 minuti Ma che buono, mi piace Non c'è bisogno che te la desci ogni 2 a 3 Lei mi sta finendo tutta la carne Dimmi che non ti stancherai mai di me Lei, è lei che sta avendo una storia extra coniugata nella ricerca di avere un figlio non solo marito Si fa così, si fa Lasciare un uomo da solo con la famiglia